I segni di interpunzione non separano le parole e le frasi, al contrario le collegano. Sono maschili quasi tutti i nomi che terminano in O. Sono femminili molti nomi in A. Non sottovalutate la potenza dell'articolo. I due punti hanno molte funzioni. Comunque le più importanti sono tre. Prima, spiegare quello che è stato detto prima. Seconda, dimostrare quello che è stato detto prima. Terza, illustrare e arricchire di particolari quello che è stato detto prima. Vi leggo un articolo che ho trovato nel sito internet della rivista Focus. Parla del prototipo di un aereo a motore elettrico. Un aereo piccolissimo, ultraleggero, che può avere a bordo una sola persona e si pilota, pensate, a pancia in giù. Alla NASA questo mini aereo lo chiamano Puffin. Leggo. Quando è a riposo, Puffin si regge in piedi con le sue gambe, due punti, quattro arti meccanici estraibili che in fase di atterraggio si aprono attutendo l'impatto al suolo. I due punti hanno una funzione esplicativa. Che cosa fanno? Spiegano in che cosa consistono queste gambe. L'autore dell'articolo, in fondo, avrebbe anche potuto scrivere Puffin si regge con le sue gambe, cioè, oppure anche, vale a dire, quattro arti meccanici. Andiamo avanti. Ma, al momento del decollo, si trasforma due punti. Gli arti si chiudono, i flap si aprono e l'apparecchio si alza in volo verticalmente come uno shuttle. Ecco, anche in questo caso, sentite che i due punti hanno una funzione esplicativa di spiegare. Quello che viene dopo, i due punti, spiega come l'aereo si trasforma. Continuiamo a leggere. Alimentato a propulsione elettrica, Puffin è tutt'altro che un lumacone, due punti. Ha una velocità di crociera di 240 km all'ora, ma può sfiorare i 480 in fase di accelerazione. Beh, qui i due punti non servono più a spiegare quello che si è detto prima, servono piuttosto a dimostrarlo. Puffin non è un lumacone, infatti ha un'alta velocità di crociera. Andiamo avanti. Gli scienziati, così continua l'articolo, stanno già fantasticando su una sua commercializzazione di massa. Due punti. Sedili più comodi, vano porta tazza da te e via. Altro che scooter. Ecco, in quest'ultimo caso, i due punti che funzione hanno? Hanno la funzione di illustrare quello che è stato detto prima, arricchendolo di particolari. Che cosa si dovrà fare, cioè, per rendere questo mini aeroplano un oggetto di consumo? Beh, bisognerà renderlo più confortevole mettendo sedili più comodi, un vano porta tazza da te e altri accessori dello stesso genere.